Si avvia verso la conclusione il procedimento penale intentato ai due responsabili delle passeggiate nelle goli e ai sindaci interessati dal passaggio del torrente Raganello. Il 27 settembre infatti toccherà ai consulenti delle difese, in particolare agli ingegneri Pino Campanelle e Pasquale Saladino, ricostruire gli accadimenti del 20 agosto 2018, vale a dire nel momento in cui una nube intensa si formò. E' questo nella mattinata sul Martirreno nei pressi di Scalea, per poi spostarsi sulle montagne del Pollino e San Lorenzo Bellizzi. La sessione del procedimento, che a dicembre dovrebbe giungere a conclusione, metterà in risalto anche la posizione delle difese in ordine ai sistemi di allertamento metro e ai passaggi effettuati dalle centrali operative romane prima della sciagura. Furono 32 gli escursionisti o semplici liberi escursionisti che stavano percorrendo la parte superiore delle golle del Raganello. Tutti vennero travolti dal torrente in piena, quindi trascinati nell'area di confine tra i comuni di Civita e Francavilla Marittima. Alcuni, i più fortunati, trovarono riparo su alcuni pietroni posti in alcuni tratti del percorso. Gli altri, meno fortunati, ci lasciarono la vita in quel luogo. Gli altri, meno fortunati, ci lasciarono il percorso.